Non penso di poterlo rompere. Devo trovare un altro modo. Non penso di poterlo rompere. Non penso di poterlo rompere. Di alfa! Continua. Sicuro che sia una buona idea? Non hai un piano? Brock dice che alcune persone vivono di caos. Penso abbia ragione. Cosa ti fa pensare che sia così? Si parla di vita o di morte? È il Ragnarok. Non possiamo non fare nulla e non abbiamo molte opzioni. Vivere! Vivere è un'opzione! Ok. Da che parte hai il concilio? Se continuo a salire e ad andare avanti, penso che ci arriverò. Sì, sarà così. Di alfa! Ah! Chiappa ! Oh Bloccato Devo distruggere questo materiale sonico Bene Mi serve un'altra angolazione sulla pietra sonora Gav up! Ah! Se mi vedesse mio padre, perderebbe la testa. Se si fidasse di me, non dovrei nascondergli le cose. Come posso fidarmi se menti? Beh, non ha tutti i torti. Forse se mi ascoltassi... Potrei dire lo stesso. Beh, da chi pensi che l'abbia imparato. Ah! 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 Chiara? 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 Devo continuare. Cosa farebbe la mamma? Perché non ti fidi di lei? Perché non me lo dici? Cosa farebbe la mamma? 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 Freyja non dovrebbe essere molto lontana. Bisogna fare attenzione a quel portone. Iarva! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei tu, Atreus? Ehi là, laggiù! Ehi! Ti è tornato il buonsenso? Sì! Cioè, non cambio idea. Ma hai dei dubbi? Ehi! Tu non ne hai mai? Sempre meglio che avere rimpianti. Non sono sicuro di essere d'accordo, ma in ogni caso continua così e potresti avere anche quelli. Sì, quella è la porta. Assicurati di urlare se inizia a ucciderti. Grazie, ora mi sento molto meglio. Ehi, Freya! Ah, cosa? Non posso far visita a una vecchia amica? Non c'è nulla di male, no? Cioè, dai, solo perché sono responsabile della morte di tuo figlio non significa che... Ok, giusto, magari questo è meglio non ricordarglielo. Come dici, Freya? Perché porto al collo la freccia che ha ucciso tuo figlio? Eh, questa è un'ottima domanda. Io... Sono spacciato. È il momento. Freya! Dovevi restare con Sindri. Aspetta! Basta! Tuo padre? Dove si trova? Non è qui! Ti ha mandato lui? No! Lui non lo sa! Non dovevi venire. Ho ucciso mio figlio. Cosa ti fa pensare che non farei lo stesso? Tu non lo faresti! Ci scommetteresti la vita? Che cosa ne sai di me? So che ancora non mi hai ucciso. Mentre ci pensi, perché non mi liberi e ti dico perché sono venuto. Se vuoi che risparmi tuo padre, fiato sprecato, il suo destino è segnato. Tu sai che è la colpa di tutto quanto. Non posso avvicinarmi a Odino. E non ne ho bisogno. Il Ragnarok lo prenderà. Ah sì? E se io ti dicessi che è venuto a Midgard? È venuto da noi! Ci ha offerto la pace se non l'attacchiamo! Dice che il Ragnarok è scongiurato! Lui mente. Potassi! Se conosci la profezia di Groa, sai che parla di un esercito di giganti! I giganti attendono la guerra Jotenaim. No! Io ci sono andato! Non c'è un esercito di giganti! Non ci sono giganti! Tranne me. Tu? A Jotenaim. Abbiamo saputo la verità. Mia madre era l'ultima guardiana dei giganti a Midgard. E questo non è tutto. Ci sono profezie dei giganti su di me. Loro mi chiamano... Loki. Penso che forse si aspettino che io li aiuti a fermare Odino in qualche modo. Ma dato che i giganti sono morti e tu non affronterai Odino... Ha già vinto lui. Perché non combattiamo insieme? Ora tu puoi lottare di nuovo! Sono ancora a pezzi! Va bene. Va bene. Ma abbiamo trovato Tyr. Forse se tu... Gli parlassi... Tyr è vivo. Sì. L'abbiamo fatto fuggire da Svartalfain. È impossibile! I nove regni sono preclusi a tutti! No. Abbiamo aperto una strada. Ma non sappiamo come procedere. Se ci alleassimo tutti insieme... Ora basta. Basta! Lascia questo posto. Vai e non tornare più! Vattene prima che cambi idea. Non aspettarti la stessa clemenza per tu. Non aspettare senza blocare la stessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono morto, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Tutto questo potrebbe essere stato solo un'enorme perdita di tempo, ma non lo ammetterò mai a Sindri, mai. Per fortuna, amo arrampicarmi. Oh, grazie, Emyr. Stai bene. Com'è andata? Iniziavo a pensare... Sindri, te l'ho detto che potevo farcela. Ma non penso che ci aiuterà. Dov'è la tua collana? Oh, stavo pensando e me ne sono liberato. L'ha presa lei, vero? Oggi era il tuo giorno fortunato. Allora dimmi, come ci si sente a farsi guidare dal caos? Io... L'avevo appena sistemato! Ho ancora qualche asso nella manica. Se hai bisogno di me... Chi ha fatto robicui qui? Incubi! A me viene da vomitare! Non riparerò più tardi. Usciamo da qui prima che qualcos'altro cerchi di ucciderci. Sì, buona idea. Odio dovertelo chiedere. Ne parleremo con tuo padre? Visto che sei stato sincero e tutto. No! Ti ucciderebbe! Bene. A proposito di sincerità. Vorrei la tua opinione su qualcosa. Qualcosa che ho nascosto a mio fratello per lungo tempo. Te lo dirò sulla via del ritorno. Forza. Non smettono mai. E' alfa! Giappa! Giappa! Ok, torniamo alla torre di Alfheim. Dicevi? Molto prima che tu nascessi ci fu un incidente alla fucina. Brock morì. Non potevo accettarlo. Così andai al Lago delle Anime ad Alfheim per riportarlo indietro. Legioni di anime provarono a fermarmi. Le sento ancora strisciare sulla mia pelle. Il fatto è che... Riuscì a recuperare solo tre delle quattro parti della sua anima. Sindri... Brock ha sempre pensato di essere rimasto svenuto. È da allora che gli mento. Il pensiero mi tormenta. Devi dirglielo. Hai il diritto di sapere. quando arriverà il momento. Come farai tu con tuo padre? Non è la stessa cosa. Non è una stessa cosa. Non è una stessa cosa che fuesti. Qui stai nella sua anima. Non è una stessa cosa. Non è una stessa cosa. Davvero? Ora? Comunque, hai fatto del bene. Hai salvato Brock. Io ho causato problemi. No. Ho fatto una scelta. Che non mi spettava. Sì, Alfa! In che senso una scelta? Io... Non potevo restare solo. Gli altri nani, quando l'hanno visto, ci hanno evitati. Così ci siamo trovati una nuova casa. Beh, il passato non si può cambiare. Ma non deve definire chi sei. Torniamo a casa prima che mio padre si svegli. Potrebbe essere l'idea migliore di tutta la notte. A tre. A tre? È un... Sta zitto. Quindi non posso darti un soprannome? Ah, era un soprannome. Come vuoi, Locke. No, così è peggio. Mi è bastato dirlo una volta. Bene. Andiamo? Ma odio arrivare a mani vuote Dopo l'enorme fallimento con Tyr volevo solo... Frena, frena, piccolo Yotun Ok, magari Tyr non è come te l'aspettavi Ma un fallimento? Lo hai salvato da un destino terribile Non è poco Ehi, forse alla fine potrà esserci d'aiuto Forse Ma mio padre non continuerà così per sempre Probabilmente ha già scelto il nostro prossimo nascondiglio Beh, non peggioriamo le cose facendoci beccare Appena arriviamo coprirò le nostre tracce vicino al passaggio E andrò sul retro e tu comportati normalmente Ma presto Vai, vai, vai Non è il rischio a preoccuparmi Ci fidiamo della via che ci vogliono indicare Mi fido della loro saggezza È come se ascoltassimo direttamente la loro voce Sicuro che i giganti non consiglino la guerra? Io li ho definiti saggi Nella mia esperienza significa essere pacifici Oh, fratellino Visto? Te l'avevo detto Atreus Dove sei stato? A fare pipì Spero che siate affamati Ho una fame Vi siete riposati quanto me? Scendo subito giù Questa è una salsiccia Ah, certo Non lo vedi? Prima il cibo era più buono Vuoi provarci tu a cucinare per questa marmaglia? Accetto Cosa? Atreus Abbiamo la prossima mossa Oh, ma allora dove andiamo? Ad Alfaim La casa degli elfi Alfaim? Tu odi Alfaim Perché trasferirci là? Trasferirci? No, andiamo a cercare informazioni L'altare di Groa, ragazzo Tuo padre dice che l'hai trovato lì Groa? La custode del sapere? Oh, forse c'è un segreto che posso svelare Già, chi meglio dico lei che ha visto tutto? Non sapevo se tu... No, niente È fantastico Alfaim Ehi! Non scordatevi questa Vi ci porterà Sapete cosa? Costruirò un tavolo più grande Ce n'è di più per me Tyr Vuoi davvero venire con noi? Sì Quando sei pronto Anzi Quando tuo padre è pronto Se i miei consigli possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi È il minimo che posso fare per sdebitarmi Inoltre Penso mi farà bene rivedere la luce di Alfaim Quella luce elfica è roba buona Dunque Chi ha avuto questa idea? Oh Mimir, ovvio Gli ho chiesto come mi avevate trovato E lui mi ha parlato delle profezie segrete negli altari di Otnar Affascinante E poi abbiamo fatto il punto su quali altari abbiamo visto E tuo padre si è ricordato che quello di Groa è fuori dal Tempio della Luce E visto che ora possiamo andare ad Alfaim È stato subito chiaro come dovevamo procedere Nemmeno un passo falso per l'uomo più sapiente del mondo Anche se i piedi non li hai Mi è sempre piaciuto parlare con te, sai? Già Ed è bello vederti di nuovo libero, amico mio E grazie anche a te, Brock Questi vestiti sono meglio di quanto meriti Puoi dirlo forte E non sai cosa ho barattato con il padrone di casa Per avere quel seme di Yggdrasil Padrone? Non è il padrone di casa Ok 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 L'ha fatto sul serio Tira addornito nel mio ripostiglio È una cosa normale per voi dei spilungoni O solo per quelli rimasti imprigionati per secoli? Quando vuoi padre No No Dietro di te! Ci vediamo tra poco al passaggio, amici. Scusatemi, signore. Vi dispiace se vi do una sbirciatina, prometto che sarà breve. Bontà divina, che fisico poderoso! Capace di una straordinaria varietà di acchi di violenza, immagino. Che cosa succede? È lo scoiattolo che si occupa dell'albero del mondo. Questo profumo delizioso è ciò che penso. Scusate l'intrusione. Ah, certo! Resina d'ambra, nocciolato con una nota di nero di seppia. No. Non vi interessate di gastronomia, vedo. Un momento, se tu sei Ratatosker, perché non somigli a quello che viene in nostro aiuto? È una storia molto lunga, ma hai detto bene, sono proprio Ratatosker. Quello che conosci come Ratatosker è solo uno dei miei aspetti spettrali. È uno particolarmente cattivo, per Giunta. Lo considero così diverso da me che è praticamente un'altra persona. A proposito... Rancore, ti va di venire a vedere i tuoi amici? Fanculo, ha da fare! Suppongo che c'era da aspettarselo. E comunque... Adesso che l'ho ripulito di tutta la resina, rivolete indietro il seme? È un seme. Proprio così. Un seme di Yggdrasil, per la precisione. Visto che i nani hanno eseguito una piccola riconfigurazione, serviranno semi come questi per aprire nuove destinazioni sul mio albero. Il tuo albero, eh? Certo, è il mio albero. Ecco, ora te lo mostro. Ah, è per questo che a Mastro Brock serviva un seme di Alfheim. Avete affari importanti in vista. Tra tutti i luoghi, il seme che avete trovato sblocca Nifelaim, un regno tanto antico quanto appiccicoso. Se per ora non andiamo ad Alfheim, forse è meglio se Tyr ci aspetta qui. I soldati che abbiamo affrontato a Svartalfheim erano Ainerir. Pensavo che rimanessero spiriti nel Valhalla fino al Ragnarok. Quelli non erano spiriti. Esatto, fratello. Pare che Odino abbia trovato una scappatoia. Ha attivato in anticipo un esercito regolare. Probabilmente non avrebbe potuto farlo con delle oneste valchirie tra i piedi. A presto. Svartalfheim. Alla prossima. A presto. A presto.